Vedete quella torre quadrata? Sì. Dall'ottavo secolo, quindi epoca della torre di Asperto, è il campanile di... Lì c'era un monastero, San Maurizio al monastero maggiore, si chiama la chiesa. In realtà era la torre da cui partivano le bighe del circo, quindi torre dei carceres. Quella parte che vedete con gli archi, vedete che ci sono tre finestre con gli archi, li vedete? L'hanno fatta dopo, quindi è stata rialzata, sostanzialmente è un piano a casa, tanto per intenderci. C'era un monastero di clausura benedettino, direi che anche queste sono le cose fondamentali da dire su quella torre.